è sempre quello di superarlo nella maniera giusta e quindi spingere verso lato, verso lato bravo, così, via su, via su e lo spingere verso lato via, dai, tira forza, bravo, via su, via su bravo, così, così, così ti va? forza ragazzi, su, che seccate, non succede niente proviamo, bravo, così, bene perfetto, via verso lato, troppo avanzamento se ne vediamo dopo via, su, posi vedete, automaticamente